Questi riconoscimenti diciamo giorno per giorno, in quanto apprezziamo la quotidianità del lavoro di queste persone. Nella straordinarietà dell'evento, cioè la cattura di malfattori che in questo caso hanno effettuato, mette con escrapi di reazione, un reato verso una donna anziana, abbiamo voluto segnalare come in questo caso l'arma dei carabinieri è presente costantemente e porta risultati in termini paragonabili allo zero, cioè due giorni per arrestare coloro che hanno conquisto questo grave delitto.